Benvenuti in Mio Verdi! Oggi qui a Verona è venerdì gnocolar, ovvero carnevale. Quindi dopo scuola sono andata con la macchina fino a casa della nonna che aveva preparato gli gnocchi per tutti, con anche il sugo. Qui a Verona infatti la maschera tradizionale è proprio il papà del gnocco, quindi sì, mangiare gli gnocchi venerdì gnocolar è d'obbligo. Io ho fatto un mix, metà col burro e metà invece col ragù, e sì, questa è la mia felicità, si può vedere. E hanno pure annullato la sfilata dei carri per allerta meteo, e poi ho mangiato ovviamente anche i galani. E tra l'altro c'è anche arrivato questo nuovo libro, Psiche Amore, una rivisitazione del mito classico di amore psiche, e sinceramente non vedo l'ora di leggerlo. Dopodiché ho dedicato il pomeriggio al ripassone di storia dell'arte, impressionismo e post-impressionismo per l'interrogazione di domani. Verso sera mi sono fatta una bella doccia e ovviamente, mentre mi asciugavo i capelli, ho terminato anche di ripassare alcune biografie. Perciò ne ho riscaldato un po' degli gnocchi avanzati, perché sì, cioè sono troppo buoni. E poi ho mangiato anche un po' di spezzatino e zucchine sempre che mi aveva dato la nonna. Però ecco, giusto un assaggio, perché gli gnocchi sono buoni ma pesanti.